Oggi cari amici torniamo nella serie di Ice Cream per scoprire nuovi segretti in arrivo su Ice Cream 8 Tenetevi pronti perché nel video di oggi cercheremo di scoprire come comincerà il nuovo capitolo Andiamo subito in partita, ma mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like Se non siete anche iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva Ma adesso devi partire, cominciamo, andiamo subito in partita Si comincia, vai, tocchiamo play Ora, per quanto riguarda Ice Cream 8, noi in realtà abbiamo già delle prime novità ufficiali Ufficiali, innanzitutto già Ice Cream 7 ci dice appunto come comincerà l'ottavo capitolo Ebbene sì, si stermatela e la sua retta raggiungerà la fabbrica di Rod Ma non solo, sappiamo pure una cosa, che l'ottavo capitolo sarà l'ultimo capitolo Il capitolo finale di questa saga Tra l'altro recentemente si è pure aggiunta un'ulteriore novità Una terza novità data dal nuovo aggiornamento di Bonnande Broken Mask Infatti abbiamo scoperto che Rod non era trattato bene dalla sua ora Cioè sua madre lo trattava male, ecco forse perché gliel'hanno portato via E in queste lettere che sono state aggiunte su Bonnande Broken Mask Abbiamo pure visto che la sua ora aveva creato tipo una sorta di pozione Un composto chimico che rendeva deliziosa qualunque cosa Quindi adesso sappiamo finalmente cos'era quella cosa che ha reso praticamente Giuseppino Salivano Molto molto famosa Era la pozione segreta di Sister Mother Solo che Giuseppino ne aveva preso una diciamo vecchia, ecco una vecchia versione Si schermatela invece e poi l'ha migliorato pure dopo la morte di Joseph Salivano Ha creato una pozione ancora migliore In modo che permettesse di dare dei risultati ancora maggiori E adesso direi di fare una cosa Non entriamo nella stanza del telefono Perché non mi va di subirmi tutta quanta la parte di Charlie Non ne ho per nulla voglia Leggiamo qua le note così almeno posso pure sbloccarci la porta E direi di utilizzare il bug per andare dall'altro lato Ok, qui cosa c'è intanto? Ah, cervello di criceto No, proteine Cosa? Rod, ma come le proteine? Cosa ci faceva Rod con queste proteine? Vabbè, forse faceva ginnastica, faceva palestra Quindi servivano le proteine, no? Ok Eh sì, perché le proteine sono molto importanti Se volete formare il muscolo, no? Per diventare muscolosi Sì, se però sto bug funzionasse Mamma mia Oh Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Direi quindi di fare il cambio di personaggio Con un Mike Che sbuca dal nulla Perché non c'era Mike Prima non c'era Mike Adesso c'è intanto lì dietro tutte quelle trappole Vabbè, e prendiamo qua L'electrogan danneggiata Andiamo subito a ripararla Perché adesso dobbiamo fare una piccola cosetta Una cosa molto molto importante Che riguarda appunto l'ottavo capitolo Guardate questo Electrogan come è diventata Ma caro Mike Però potevi tenerla Bene, potevi fare attenzione, no? Adesso dobbiamo riparare tutto quanto qua Ma per fortuna con il meno indizi E tutto quanto fattibile, no? Ok E l'abbiamo riparata Sì Così possiamo finalmente estrarre l'ingrediente segreto Eccolo qua Praticamente Rod Ha creato tipo una sorta di macchinario Che gli ha permesso di creare Proprio a livello industriale Questo ingrediente segreto Questa pozione segreta Sì, perché la sua retta Lei lo faceva a mano, no? Però Rod ne ha proprio creato un qualcosa Un macchinario Per creare questo ingrediente segreto Rod utilizza Chubby Boy Prende proprio i fanciulli Tutti quanti belli grassottelli E dopodiché Li spreme Mamma mia Come se fossero delle spremute Per estrarre appunto Come posso dire Proprio l'ingrediente Ecco, chiamiamolo così Un ingrediente Un qualcosa particolare Che utilizza per creare La pozione segreta Dopodiché questa pozione Viene inserita Nei suoi gelati E li vende Per poi far diventare Le persone in Chubby Boy Ma perché Rod Deve fare queste cose qua? Venditi i tuoi gelati Come se nulla fosse, no? Puoi diventare Il miglior gelataio Conosciuto a livello mondiale Lui cosa fa? Va a trasformare le persone in gelate Ma perché Rod Ma perché vai a fare Ste cose brutte? E insomma Ma dai Va bene dai Adesso però Io direi di fare una cosa Facciamo un salto indietro Del tempo Andiamo su Escrime 4 Perché lì c'è una cosa Molto particolare Che ci dice appunto Come potrebbe cominciare Il capitolo finale Della saga Del gelataio E caro Roddino Caro Roddino Neanche su Escrime 8 Riuscirai a vincere Ti sconfiggeremo Anche lì E ti faremo finalmente Fare la brutta fine Sì Vai Ok Ho bisogno di trovare Vabbè Devo uscire dalla gabbia Salvare gli amici Ma noi non faremo nulla Di tutto ciò Perché cercheremo appunto Di scoprire Come comincerà L'ottavo capitolo Per prima cosa Mettiamo uno clip God mode Ghost mode Qualche c'è E ci riusciamo subito Via da questo postaccio Allora Come ben sappiamo Nel finale di Escrime 7 La sua ora Sister Madeline Si presenterà Proprio qua All'ingresso della fabbrica La vedremo qui Arrivare Qui che cammino Dopodiché proseguirà Lungo questa strada E infine si gira Facendo la sua risolta E poi da lì Compara il messaggio Sister Madeline Ha raggiunto la fabbrica di Rodd E adesso che cosa succederà? E adesso Sarà un bel problema No? Perché Oltre ad avere Rodd All'interno della fabbrica Abbiamo pure la sua retta Cioè diventerà un crossover Diventerà Ice Cream Evil Nun Non so neanche io Come verrà sto gioco Come si chiamerà Secondo me potrebbe pure Chiamarsi Ice Cream 8 Evil Nun Ci potrebbe stare come nome Fatemi sapere qui sotto nei commenti Se vi piacerebbe un nome del genere Un gioco dove dobbiamo scappare In contemporanea Da Rodd E da Sister Madeline Bisogna anche vedere Sister Madeline Che ruolo avrà all'interno del gioco Se sarà proprio un nemico Vero e proprio Oppure sarà così Di passaggio Magari di contorno Magari sta di qua fuori Lei cammina Ma nel mentre noi facciamo le cose All'interno della fabbrica Non lo sappiamo Potrebbe esserci anche il colpo di scena Sister Madeline Viene ad aiutarci Per sconfiggere Rodd Quello veramente sarebbe Un grande grande colpo di scena Comunque Per quanto riguarda appunto La fabbrica di Rodd Sister Madeline Abbiamo scoperto una cosa Nel corso di questi ultimi mesi Che la fabbrica Si trova proprio davanti Alla scuola di Volnan Infatti su Volnan De Broke & Mask Abbiamo visto Che proprio dal balcone Cioè dal terrazzo Possiamo vedere in lontananza La fabbrica di Rodd Quindi la sua retta Diciamo che ha visto In qualche modo Roddino Cioè diciamo Cercato di guardare Di tenere sotto controllo Cosa stava accadendo E infine poi Finalmente dopo tanti anni La sua retta ha potuto lasciare Quella scuola Il patto di Nazareth è scaduto Quindi lei si diretta qui davanti Per presentarsi finalmente Do suo figlio Contenta di rivederlo Ma invece Rodd In contemporanea Sarà contento oppure no Di rivedere sua madre Come ben sappiamo Rodd Ha sempre cercato Di evitare Di avere contatti Con sua madre E infatti Non si sono mai incontrati Perché Rodd Non ci ha voluto proprio andare Ma questa volta Sono costretti a beccarsi Visto che lei Ha raggiunto il posto Comunque Nell'ottavo capitolo Il gioco comincia In questo modo Da un lato Abbiamo i bambini Che sono chiusi qua All'interno della stanza di Boris Qui nella stanza di controllo E in contemporanea Rodd cerca di spondere questa porta Però non ce la fa subito Perché qua ci sono tutti i bambini Che stanno tenendo bloccata la porta In modo che lui non possa entrare In modo che lui non possa spondarla Ma qui ci sono le telecamere Guardate qua Ci sono le telecamere di controllo E poi vi faccio vedere pure un'altra cosa Anche qui fuori C'è una telecamera Proprio all'ingresso Qui davanti Quindi probabilmente Arriverà un punto Che Rodd Riuscirà veramente A sfondere questa porta E Prima cosa che farà È guardare dalle telecamere Guarderà qui Vedrà che c'è sua madre Fuori Che sta per raggiungerlo Quindi in contemporanea I bambini potrebbero sfruttare Questa distrazione Per scapparsene via E in tal caso Le vedremo scappare Proprio via da questo Coso Da questa control room Mentre cercano di andarsene via Da qualche parte Per salvarsi Potrebbero o entrare All'interno della discarica Dove abbiamo visto Che c'è un'altra porta segreta Con tutta questa zona qua Oppure potrebbero Prendere l'ascensore Qui per Proprio Cercare di allontanarsi Il più possibile E quindi vorrebbe dire Che noi entreremo qua Nell'ultimo piano Della fabbrica Non so se voi ci avete fatto caso Ma ogni capitolo di Ice Cream Si sviluppa su Piani differenti Ad esempio Il primo capitolo Anzi il quarto capitolo Si sviluppa principalmente Qui nel piano terra E parte del piano superiore Dopodichè Nel secondo Perché secondo capitolo Nel quinto capitolo Abbiamo esplorato per bene Questa parte di edificio Dopodichè Nel sesto Siamo saliti di sopra Qui Dove ci sta la cucina di meti Nel settimo Siamo saliti ulteriormente di sopra E quindi ci manca ancora Ad esplorare questa parte Questa probabilmente Sarà proprio la zona Di Ice Cream 8 Qui sicuramente Rod sta nascondendo qualcosa Qualche segreto oscuro Che molto presto finalmente Potremmo conoscere Vabbè Tanto comunque Quest'anno arriveranno Ben due giochi Di Ice Cream Ice Cream United E Ice Cream 8 Quindi direi che per quest'anno Avremo tanti bei giochini Da provare Ma non solo Perché dovrebbe uscire Anche Mr. Meat 3 E spero che finalmente Venga annunciato Anche un ipotetico Vero Evil Nun 3 Come si deve Quindi direi di fare una cosa Direi che per il momento Può venire quel video Fatemi sapere Questi commenti Cosere pensate E soprattutto Fatemi sapere Quale gioco Voi non vedete l'ora Di giocare Fra Ice Cream United Ice Cream 8 Mr. Meat 3 Evil Nun 3 E poi Cosa dovrebbe venire Non lo so Poi nuova serie Di Kepler Che ancora non sappiamo Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Quando vi date Iscrivetevi Con la campanella La ventura non finisce qua Perché qui davanti a voi Compariranno ben quattro schede Con quattro serie differenti Cliccate ne una Buona visione E ci vediamo direttamente In via di quelle serie Ciao a tutti E buon parino 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 a tutti